Un altro tratto di Via dei Pescatori è stato chiuso al traffico a causa di radici e avvallamenti che rendono l'arteria troppo pericolosa. Nello specifico si tratta di un chilometro e mezzo di strada, compresa tra Via di Castelfusano e Via del Posto di Dragoncello, un vero disagio per i residenti della zona. Non hanno investito un soldo in questa zona e le strade non sono solo come 40 anni fa, magari. Le strade sono peggio perché le hanno chiuse. È una cosa vergognosa perché, per esempio, adesso hanno chiuso questo tratto e quindi tutto il traffico si deve riversare di nuovo sulla Colombo, stare in fila al semaforo di Ossia Antica, il che è assurdo. Vorrei che qualcuno cominciasse a pensare a qualche alternativa e chiudere le strade mettendo dei blocchi senza nessuno che ci lavora, senza vedere noi cittadini un'alternativa, non può continuare a essere una soluzione. Chiudendo questo tratto bisogna passare per la Pineta e prendere la Colombo, oppure andare verso questa direzione e prendere la Via del Mare. Quindi si limita chiaramente la viabilità su altre arterie che già sono abbastanza trafficate, quindi sicuramente è un grande disagio. Parecchia gente passava da questa parte per smistare un po' le macchine. Io non sono residente, però lavoro in zona e è un disagio per raggiungere le zone. Un bel disagio. Io ci abito e so le difficoltà che passiamo, ma non solo questo pezzo qui. Da Via Fosso di Dragoncella a Via di Casal Palocco è una cosa indecente, da Terzo Mondo. Poi, un'altra cosa, questa una volta era a doppio senso. Adesso è stretta anche a un senso unico, con tutti i cespugli, roba che è andata a finire tutta in mezzo alla strada. Quindi ci conferma che questa chiusura è un disagio, almeno per chi vive in zona? Per tutti, noi dobbiamo fare tutto in giro, allungare sempre 5-6 km in più per tornare a casa.